Ciao a tutti, siamo ancora qua per uno dei nostri video. Oggi vi voglio parlare di come si calcola la potenza termica da dissipare nelle centrali oleodinamiche. Installiamo tantissimi scambiatori a piastre per il raffreddamento dell'olio nelle centrali oleodinamiche. In sostanza cosa accade? Quando abbiamo una centrale oleodinamica, ovvero un sistema alimentato da una pompa che spinge olio a pressione dentro a dei servomeccanismi, dentro dei servocomandi, a dei pistoni, ebbene questo olio viene pompato a una pressione piuttosto elevata, dipende poi dal tipo di applicazione, dal tipo di cilindro, dal tipo di impiego in sostanza, e inevitabilmente si riscalda. Si riscalda per effetto del pompaggio e del lavoro che svolge sui cilindri. Questo olio va raffreddato perché altrimenti se sale continuamente di temperatura perde le proprie caratteristiche e si rovina. Come si fa a calcolare quanto bisogna raffreddare quest'olio? A livello di temperatura diciamo che il discorso è abbastanza semplice, bisogna mantenere una temperatura indicativamente attorno ai 40-50 gradi più o meno, ovvero deve alimentare cilindri, pompe, motori idraulici a una temperatura, come dicevo, di 40-45-50 gradi. Ma il tema non è questo, il tema è calcolare la potenza termica che dobbiamo asportare. Il metodo più semplice, solitamente, è quello di prendere in considerazione la potenza del motore della pompa che fa circolare l'olio in pressione nel circuito, perché in sostanza è questo l'elemento che trasmette energia termica all'olio. Solitamente si calcola il 30%, 40%, massimo 50% della potenza installata come motore della pompa che mette in pressione l'olio. Questa è la quantità di energia che va asportata dell'olio per raffreddare. È un calcolo empirico, ovviamente. Per fare un calcolo decisamente più preciso, bisognerebbe andare a prendere il rendimento della pompa, il rendimento del motore elettrico. Tipicamente, per semplicità, si utilizza la percentuale che vi ho indicato. Si prende la potenza di targa del motore della pompa, da questa potenza si calcola il 30-40%, massimo 50% di potenza. Questa diventa la potenza termica. Per fare un esempio banale, se abbiamo una pompa con un motore da 100 kW, la potenza termica da asportare al circuito dell'olio equivale a 30-50 kW. Un altro fattore importante da tenere in considerazione è la viscosità dell'olio, ma ne parleremo in un altro video. Grazie e buona serata a tutti.